Tutti insieme per valorizzare le tradizioni artigiane, offrire opportunità di lavoro e sostenere i giovani del centro storico. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa giunta alla sua seconda edizione presentata alla Bulla nel complesso di Sant'Eligio a Napoli. Il consorzio antico Borgorefici, la fondazione di comunità e il comune di Napoli lavoreranno insieme per offrire ai giovani tra i 16 e i 20 anni l'opportunità di un'adeguata formazione per diventare orafi e designer in un settore di grande tradizione a Napoli. Sentiamo Roberto De Laurentiis, presidente antico Borgorefici. Indubbiamente noi siamo sempre a disposizione per rivalutare la nostra arte, che siamo ormai custodi di una tradizione orafa che parte integrante con la cultura partenopea. Tutto sta a pensare al Museo di San Gennaro, le opere del Museo di San Gennaro sono state tutte create dagli artisti nel 1700 e nel 1600 dagli artisti borgorefici. E questa iniziativa, grazie anche alla fondazione del centro comunità e alla collaborazione ovviamente del comune, spero che faccia avvicinare questi giovani a quest'arte, che io penso che abbia ancora molti sbocchi nella nostra economia. Allo stesso tempo la collaborazione tra i tre soggetti consentirà di combattere il disagio e riqualificare il centro storico. Sentiamo Adriano Giannola, presidente della fondazione di comunità. Uno dei temi di intervento, non tanto di supplenza o di assistenza, ma invece di sviluppo, è proprio il recupero degli antichi mestieri, che non sono affatto fuori dal mondo, ma al contrario hanno ampi spazi per essere recuperati in realtà come Napoli, che hanno un patrimonio di esperienza, di realizzazione, di cui non c'è consapevolezza. Allora ecco, questo tipo di attività a mio avviso può dare una scossa. Il progetto è rivolto ai dieci giovani selezionati insieme al comune di Napoli grazie al lavoro dell'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Una garanzia anche sul fronte della legalità e della trasparenza per consentire loro di imparare un antico mestiere come quello dell'Orafo, che ha tuttora grandi prospettive e che può offrire notevoli opportunità. Sentiamo. Ripartiamo dalla necessità di dare ai ragazzi delle opportunità reali di formazione concreta e lo facciamo attraverso il borgo reifici della città di Napoli e la bulla, questo luogo e questo spazio concreto, credibile, che grazie a un bando nato in sinergia con l'assessorato ai giovani permetterà a dieci giovanissimi di poter costruire una strada di lavoro attraverso un patrimonio inestimabile che è la nostra tradizione, quindi in bocca al lupo ai tutti i ragazzi e credete in questo progetto a garanzia non soltanto c'è la città tutta ma le eccellenze straordinarie che ogni giorno operano in queste stanze e vogliono consegnare a voi, quindi più piccoli, non soltanto la propria arte ma soprattutto il proprio futuro.